Prima Torinese, due anni sul miglio, uno Rodrigo Zak, due Ruggio Danek, tre Romi, quattro Roccia, Melone, cinque Rita Ritz, sei Reof Moon, sette Rex Zolli e Kappa in seconda, otto Rolex e Kappa, nove Reipava, dieci Rivombroso M11, Ruggio Del Rio, dodici Rione Desi, tredici Red River, CR i favori per Rita Ritz, due e quarantacinque, si va per lo stacco. Rita Ritz, la favorita subito al comando, intanto ha sbagliato il numero sette di Rex Zolli e Kappa, arco della prima piegata con Rita Ritz che si è sistemata al comando, intanto a tabellone c'è il numero sei di Reof Moon, mentre qui dietro sta sbagliando anche Roccia Melone. Uscita dalla prima piegata con la situazione che da vanguardia non tende a cambiare, c'è sempre Rita Ritz a comando delle operazioni, cresce visivamente il 12 di Rione Desi che arriva nei pressi della leader terza in corda e la 2 di Ruggia Danek, i primi 400 di corsa erano andati in 30 e mezzo, si sfila ora davanti alle tribune con Rione Desi che gradualmente cerca di sopravanzare Rita Ritz, la diatriba che si chiude con il sorpasso all'imbocco della penultima curva. Gruppo molto molto allungato, si viaggia sul piede del, intanto a tabellone c'è anche Rolex K e rotture nella via di fuga, il secondo parziale in 29 e 8, Rione Desi che ha sopravvanzato a Rita Ritz in terza, sempre Ruggia Danekka ancora Rodrigo Zacca da dietro prova a rinvenire, Ruggia Danekka del Rio si è completato il chilometro in uno svelto 1.16.7 per il contesto, i 500 metri finali con Rione Desi sempre leader nei confronti di Rita Ritz, a tabellone c'è anche Romi G, intanto i cavalli che imboccano il quarto conclusivo, una parziale in 31 e 8 per Rione Desi che ora dovrà guardarsi dal ritorno di Rita Ritz in posizioni d'avanguardia anche per Ruggia Danekka, i cavalli che escono dalla piegata di fondo con Rione Desi che prova ad allungare, Rita Ritz che cerca di acciuffarlo, a centro pista finisce molto bene anche Ruggia Danekka del Rio, sta arrivando anche Red River CR, i metri finali del percorso, Rione Desi che contiene la tentativa di Rita Ritz in terza e Ruggia Danekka del Rio. 12.5.11, questi numeri probabili della prima torinese, vittoria al debutto per l'ottimo Rione Desi, i colori di Vignano Trotto, il training di Mauro Baroncini, la guida di Tommaso Di Lorenzo per questo uronometro, totale di 2.26 per quanto riguarda il cronometro, 1.16.6 il raguaglio, 34 a chiudere la quota di Rione Desi da vincente, 5.23.